Grazie. Grazie. Ho anche dei portachiavi Gnu e questi costano 10 euro e ho anche queste spillette, questi sono 5 euro, tutti i soldi sono per la fondazione Free Software, ma prima è il momento di farle domande, ma in realtà sarebbe bello mettere i stickers in un posto vicino alla porta, se qualcuno venisse e metterle i stickers in una città vicino alla porta, se qualcuno potrebbe prendere i stickers in una città vicino alla porta, se qualcuno potrebbe prenderli quando andate via. Chi deve fare domande, anzi a mano tu li direi, li vediamo. Sono stanco morto, quindi se volete che io vi capisca dovete parlare così, ad alta voce. oppure potete parlare in italiano e io traduco la domanda. Chi deve fare le domande, segnali così arriviamo. Ok. My question is, don't you think the problem behind the DRM and the… I preventi sul software sono dovuti al fatto che pian pianino il business tende a spostare il valore delle persone ai prodotti, quindi non è più, diciamo, l'artista che ha il valore, il valore dell'artista che conta ma la musica che viene pubblicata, non è più il sviluppatore che… questo è un punto di vista economico e significa che non si adegua tanto a quello che stiamo dicendo perché… quello che diciamo qua è più importante dell'economia è sufficiente alla libertà. Non sono sicuro che tu abbia ragione, ma sono sicuro che non ha importanza. Io parlo in particolare, diciamo, delle cause di quelli che sono i problemi che abbiamo raccontato. La causa è semplicemente il fatto che la tecnologia digitale dà agli editori l'opportunità di attaccare la nostra libertà. è certo che usano tutte le opportunità che hanno, le possibilità che hanno. Grazie. So… Who is managing the questions? Io voglio prendere una domanda. Passiamo al microfono. Sentenza. Allora, vorrei chiedere un suggerimento. Allora, uno sviluppatore software che fa come lavoro sviluppatore software. Con la filosofia free software diciamo che i guadagni si riducono per uno sviluppatore software. Quali sono, magari, i metodi che tu puoi suggerire per dare comunque spazio al guadagno di uno sviluppatore software? Prima di tutto, vorrei parlare di un problema più profondo. Allora, a che punto, cioè, è importante questo? Un programma non libero è un modo di soggiogare gli utenti. Non dovrebbe esistere proprio. Se qualcuno fa molti soldi facendo questa cosa brutta, il fatto di far soldi non è una scusa per farlo. Un ladro potrebbe dire, sì, però io sto facendo soldi così. Se volete che io mi fermi nel rubare, dovete darmi un altro modo in cui io posso fare altri soldi. Soprattutto se è nella mafia. Questo è molto profondo. Dovete suggerirmi qualcosa che posso fare che sia così profondo se vuoi cambiare professioni. Ma noi dobbiamo fare questo. Quello che fa adesso è spaiato, quello che fa adesso è spaiato, quello che fa adesso è spaiato, e questo include anche te. Quindi ferma che basta. Questa è la mia risposta ai programmatori di software professionali. Ma ora vedi che tu vuoi scrivere software libera, ma non trovare un lavoro che ti pagi per fare questo. Ci sono dei soldi, ma sono dei soldi non panni, e potresti non farne un altro. Quindi cosa fai? Se vuoi fare soldi, devi trovarti un altro lavoro. Devi trovarci un altro lavoro. Now, what level of unemployment is there in Italy now? Do you know the answer? Approximately. Including me? Do you know approximately what percentage of Italians are unemployed? I don't know, I should ask the public. Quanti siamo in Italia? Circa più di 40%? 10? Le curi? Under 30 years, between 30% is 40. Well, obviously, unemployment doesn't kill you. Beh, la disoccupazione non vi ammazza. Now, it's unpleasant. It's unpleasant, but it doesn't kill people. Pacevole, ma non ammazzare persone. You're not entitled to say I've been unemployed and that excuses me to develop proprietary software. Questa è una scusa per me per programmare software proprietari. That's wrong. Hai sbagliato. Now, another relevant point is... Most paid software development is not development of proprietary software products. Most paid software development, most, 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 is not development of proprietary software to release to the public. Non sono software proprietari che poi vengono lasciati al pubblico. It's development of custom software where one client is paying to get it developed in order to use it. E' un solo cliente che paga per avere il software e per poterlo usare. E' un software fatto su misura. E questo può essere fatto come software libero e il cliente comunque dovrà pagare. So, in fact, if all users demanded free software... ... ...